Bene, bentornati, andiamo a collegarci con tanti ospiti, la tecnologia ci viene in soccorso, possiamo averne quindi in contemporanea tantissimi, questo ci fa molto piacere perché il nostro intento è di dare spazio e informazione di una bellissima realtà che è appena nata a Siena, è spazio di RSI, disabilità in rete a Siena, un progetto innovativo di rete per sostenere concretamente le persone che hanno disabilità e le famiglie fragili nella città di Siena. Andiamo a collegarci con Letizia Cambi che conosciamo bene perché è la coordinatrice sempre attiva dell'Associazione Sportiva Le Bollicine, ciao Letizia, buongiorno. Buongiorno, grazie di questa bellissima opportunità. Grazie a te per poterla raccontare, ci sono tante persone insieme a te, racconteranno un po' come si sta mettendo a punto questo progetto, raccontiamo un po' come è nato e ricordiamo anche che chiaramente l'Associazione Le Bollicine è capofila di questo nuovo progetto, però ci sono altre associazioni che ovviamente ne faranno parte, un progetto riusciremo insieme finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi. Assolutamente, infatti siamo in tanti oggi dietro lo schermo proprio perché il valore grande di questo progetto è il senso di comunità che attorno alla persona con disabilità, cioè con la persona con disabilità al centro vogliamo creare per risposte univoche e trasversali. Come nasce Dirsi? Dirsi è una progettazione che nasce in risposta al bando riesco della Fondazione Monte dei Paschi di Siena finanziato per l'area della disabilità. La Fondazione ha emesso questo bando la scorsa estate per dare risposte chiaramente in seguito alla pandemia, all'emergenza Covid sulle aree di interesse anziani, fragilità e per l'area della disabilità questa idea progettuale ha vinto il bando, una risorsa economica importante perché si parla di 105 mila Euro finanziate dove le bollicine sono a capofila di una grande rete di terzo settore e istituzioni che si sono collegate per sviluppare partendo appunto da un voler dare una risposta alla situazione emergenziale che però si collocano come prospettiva nella costruzione di una rete integrata che vuole essere innovativa e partendo appunto da una situazione di emergenza vuol creare con modalità nuove un qualcosa che possa andare avanti nel tempo. Chi sono? Chi è questa rete? Esatto, raccontiamo. Abbiamo associazioni afferenti all'area della disabilità come Amnic e la sezione di Siena, appunto Luishi, Asedo, Associazione Senese Down, Semmaiuti Ballanchio, Ausismo Siena Piccolo Fringi, Culturing, CAI, Associazione Visionaria. Accanto a questo collaborazioni con enti pubblici e terzo settore abbiamo Mondomangione, abbiamo Università di Siena, abbiamo la nascita di un protocollo d'intesa che vede in affiancamento istituzioni come l'ASL di Siena, l'ASL Sud-Est, l'ASL e le SDS di tutta l'area provinciale e la Fondazione Territori Sociali della Val d'Elsa. Qual è la mission del progetto? La mission del progetto è creare appunto un senso di comunità interna e esterna. Vedete che dalla rete non sono presenti solo associazioni afferenti alla disabilità, ma anche associazioni culturali, associazioni che si occupano di appunto esperienze naturalistiche come il CAI, dove attorno alla disabilità possono nascere progettazioni di esperienze per tutti. Il progetto si costituisce su tre aree principali che sono appunto la nascita di spazi, spazi comunità interne e esterne che sono lo spazio informarsi, lo spazio insieme e lo spazio integrarsi. Abbiamo creato una comunità, una comunità di operatori, di volontari che mettendo idee, entusiasmo e professionalità si stanno collegando per appunto sviluppare queste progettualità. Lascio la parola a Riccardo che vi delinerà lo spazio informarsi. Ecco Riccardo, allora raccontaci qual è la novità, l'elemento davvero di diversità rispetto ad altri progetti che chiaramente hanno finora anche nel nostro territorio cercato di dare una risposta alle esigenze chiaramente delle persone fragili, delle loro famiglie? Sì, allora buongiorno a tutti innanzitutto. L'enorme novità è quella che ci siamo finalmente messi ufficialmente costituiti come una grande famiglia e ci siamo messi al lavoro ufficialmente tutti insieme su un unico progetto. Quindi diciamo quello che finora bene o male ci si conosceva però comunque erano magari contatti più o meno indiretti o comunque non ufficiali, ora c'è realmente un progetto ufficiale. Vado appunto a presentare la parte di ascolto, la parte di punto di ascolto, di sportello appunto, lo spazio informarsi. E proprio da qui si vede la filosofia del progetto, cioè a questa piattaforma online a cui è associato poi sia una chat in tempo reale ma anche un numero di telefono, un indirizzo email, si susseguono operatori delle varie associazioni diverse, quindi giorni diversi, orari diversi, operatore afferente o proveniente comunque da associazioni diverse. E quindi dove poi però tutte le richieste che arriveranno o comunque verranno poi riportate in discussione. Quindi diciamo su degli eventi o singoli eccetera magari diciamo il portale o comunque il numero di telefono dà una risposta immediata. Però per tutte le richieste diciamo di aiuto o comunque più complesse la cosa fondamentale è che questi casi, queste situazioni vengono, non mi è data la risposta immediata dall'operatore che risponde in quel momento, ma vengono riportate in discussione da un coordinamento che è costituito da tutte le associazioni, quindi da membri di tutte le associazioni. Quindi diciamo ognuno con la sua professionalità, ognuno con la sua esperienza è diversa, dà il suo apporto poi alla presa o in carico della problematica che diciamo può arrivare e che ci viene. Quindi in questo caso le famiglie hanno a disposizione uno strumento H24 per poter appunto intervenire e dare appunto un aiuto concreto. In questo lavoro chiaramente tutti ne fanno parte, tutte le associazioni del territorio, c'è una progettualità come abbiamo detto che è integrata, questo permette davvero di essere sul territorio praticamente per tutta la giornata? Sì, almeno da lunedì a lunedì tutti i giorni sono coperti, almeno a mezza giornata diciamo di risposta dell'operatore al telefono, poi ci sono tutti i canali, le mail eccetera. Beh questo mi sembra già un elemento insomma molto importante, prego. C'è un altro elemento molto importante che è quello, ma qui passo la parola alla nostra Soemi, che sicuramente ce lo spiega in maniera ineccepibile, la partecipazione a questo gruppo che accoglie le richieste di un gruppo di operatori alla pari, quindi di ragazzi provenienti dalle varie associazioni. E allora cerchiamo di capire questa parte, ciao, buongiorno. Buongiorno, sono Soemi, ho 22 anni e sono consocia dell'Unione Italiana Sciacchi di Siena e all'interno di questo progetto ho il ruolo di peer operator, ovvero operatore alla pari. Insieme ad altri ragazzi mi occupo di promuovere il progetto e di aiutare gli utenti a mettersi in contatto con noi o con le singole associazioni. Infatti tra le attività che abbiamo svolto come prima cosa abbiamo raccolto informazioni sulle varie associazioni per essere in grado appunto di aiutare gli utenti in caso di bisogno e per avere un'idea di chi sono le varie associazioni e di cosa si occupano. Poi abbiamo chiesto a queste associazioni di fornirci i loghi e anche delle foto che rappresentassero le attività che svolgono nel quotidiano ma anche che proporranno all'interno di questo progetto. Successivamente queste foto sono state descritte da altri operatori dell'associazione Le Bollicine e poi sono state pubblicate sul sito. Poi ho contribuito insieme a un'altra peer dell'Unione Cecchi all'esplorazione del sito web e a fornire, diciamo, a segnalare eventuali problemi di accessibilità perché è giusto che il sito sia accessibile a tutti. Poi abbiamo collaborato alla realizzazione del primo post per la pagina Facebook e ultimamente ci stiamo occupando di realizzare delle interviste alle varie associazioni che avranno lo scopo di conoscerci meglio tra noi ma anche di farci conoscere meglio al mondo esterno. Personalmente penso che questo progetto sia una bella sfida e che sia nato, diciamo, in un momento anche molto particolare e che il fatto che queste associazioni si siano unite nonostante, diciamo, la distanza e nonostante tutto è comunque la dimostrazione che si può fare qualcosa di grande, si può fare la differenza e si può anche aiutare le persone a sensibilizzarsi su certi argomenti. Spero che la cosa possa andare avanti e che ci possano essere tanti momenti di condivisione e di arricchimento per ognuno. Assolutamente, ce l'auguriamo tutti. Senti Suemi, chiaramente abbiamo capito che siamo nella fase iniziale, quindi di promozione e tante persone ancora non sono a conoscenza di questo progetto ma presto lo saranno e quindi ci auguriamo davvero che tante persone riescano a trovare un punto di riferimento in questi progetti che state portando avanti. Che cosa vorresti tra tanti anni veder realizzato? Cioè come ti immagini questo progetto tra qualche anno? Sicuramente spero che appunto tante persone ne vengono a conoscenza, che sia una cosa che possa continuare nel tempo e che possa darci tante soddisfazioni, che possa aiutare tante famiglie, tanti ragazzi con difficoltà e possa anche aiutare a appunto trovare momenti di condivisione, a socializzare, a conoscerci meglio e personalmente questo progetto mi ha permesso anche di frequentare di più l'associazione, di conoscere meglio anche altri ragazzi e spero che sia un po' quello che capiti diciamo a tutti, anche a generazioni future. Eh, questo è sicuramente una bella esperienza, è una grandissima opportunità Letizia, quindi come dire c'è tanto lavoro da fare ma sicuramente il potenziale è tantissimo e ci auguriamo che non sia solamente un progetto come dire che dura poi per breve tempo ma che rimanga come dire come un patrimonio davvero nella città di Siena, no? Esatto, infatti ecco, anche il lavoro di progettazione è andato in questa sensazione anche di formalizzare la costituzione dell'ATS, per cui di un'associazione tra le associazioni e rendere anche funzionante un protocollo di intesa che vede protagonisti le istituzioni proprio in una situazione di dialogo e di coprogettazione con appunto le SDS e l'ASL sud-est dove la persona con disabilità è al centro, questa è proprio la politica legata al progetto di vita della persona con con disabilità dove vedete che comunque tutti gli attori, un terzo settore che diviene un terzo settore comunque capace di essere protagonista a tire ma anche di funzionare in una funzione di ricomposizione di risorse e di interventi dove comunque tutti fanno la loro parte appunto in funzione della persona. Questa è un po' la sensazione appunto di questo sportello, di questo sportello che è lo spazio, che è lo spazio appunto informarsi che comunque ha una funzione di ascolto ma anche di orientamento e di diffusione di opportunità non solo per la persona con disabilità ma per la comunità intera. Vorrei anche aprire riflettori comunque su le altre iniziative che vedono questa ampia progettazione in senso lato e do la parola a Martina Giunti che è membro dell'esecutivo appunto dell'ATS che esemplifierà le altre aree della progettazione. Buongiorno, salve. Ciao Martina. Ciao, buongiorno. Allora mi collega a quello che diceva l'edizia appunto perché lo spazio edilsi non si esaurisce appunto con l'attività di informazione, accoglienza, orientamento dello spazio informarsi, ma è anche un contenitore di una serie di iniziative che le associazioni che partecipano alla rete hanno programmato per il benessere degli utenti dello spazio edilsi. Lo spazio infatti propone e dà vita a una serie di attività che sono coprogettate e realizzate in condivisione di spazi, di mezzi, di luoghi e anche di esperienze delle varie associazioni della disabilità della rete. Per cui abbiamo attività che spaziano da laboratori di autonomia, attività motorie, laboratori espressivo-artistici, ortocultura, laboratori di danza, ma anche servizi di prossimità e di socializzazione. Questi servizi sono pensati per la ripartenza e per contrastare anche l'isolamento che questa pandemia ha, a cui questa pandemia ci ha costretto e ci sta costringendo. E alcune attività sono state proprio pensate, modulate in modalità online per permettere anche una partecipazione allargata a quegli utenti che abitano in zone diverse della provincia. Oltre a questo abbiamo lo spazio edilsi, lo spazio includersi che propone tutta una serie di eventi inclusivi dove questa comunità interna possa aprirsi alla partecipazione di tutta la cittadinanza in maniera inclusiva. Queste attività sono pensate e progettate insieme a tutte le associazioni della rete che non sono direttamente legate al mondo della disabilità. I primi eventi sono infatti quelli organizzati, come diceva Letizia, con il CAI Siena, sono una serie di escursioni naturalistiche che sono già in calendario. E poi a tarda primavera organizzeremo anche una rassegna cinematografica in collaborazione con l'Associazione Culturale Visionaria, una rassegna cinematografica inclusiva che quindi permetterà la partecipazione della cittadinanza ma sarà accessibile verso tutte le disabilità, compreso le disabilità sensoriali. Quindi l'invito è comunque quello di visitare il sito spaziodirsi.it dove ci sono tutti i dettagli delle informazioni che abbiamo dato stamani e c'è anche una sezione dedicata allo sport, sport per tutti, dove ci sono i riferimenti e i contatti di tutte le associazioni sportive, gli enti cittadini e della provincia che hanno in programmazione attività sportive inclusive a tutte le disabilità. quindi nel sito poi ci sono presenti anche appunto oltre al CIP che è un partner del progetto il Comitato Italiano Parolimpico della Sezione di Siena, anche altre appunto associazioni sportive ed enti sportivi. L'invito appunto è quello di visitare il sito dove ci sono tutta questa informazione, c'è anche una sezione di news dedicata proprio anche al calendario degli eventi, a corsi di formazione, insomma i programmi di formazione che saranno riproposti anche in futuro e dove ci sono ben evidenziati tutti i nostri contatti mail, telefonici per appunto mettersi in contatto, per avere altre informazioni e anche per conoscerci meglio. Assolutamente, allora rinnoviamo l'invito anche ai nostri telespettatori, spazio dirsi chiaramente se su Google mettete questo trovate tutte le informazioni, trovate il sito, trovate la pagina Facebook e trovate tutti i contatti. Ragazzi io vi ringrazio davvero di aver condiviso con noi questo progetto che mi sembra davvero molto bello e mi sembra una nuova partenza comunque per Siena, spero che questo spazio sia davvero a disposizione di tutti e sempre di più della città, noi vogliamo essere la vostra voce e quindi quando avete sicuramente delle cose da dire noi siamo qua e speriamo anche di trovarci presto per far vedere magari una bella iniziativa proprio per festeggiare questo nuovo inizio. Letizia io ti ringrazio davvero, capofila delle bollicine e quindi insomma un progetto importante che vi fa onore e fa onore anche la Fondazione Monte dei Paschi che ovviamente ha finanziato questo progetto. Grazie e a presto, arrivederci con la prima iniziativa diciamo all'aperto. Intanto rinnovo a tutti di visitare il sito e segnalo anche il numero di telefono dello spazio informatico che è 0577 40 052. Contattateci. Grazie, grazie mille, un saluto a tutti i ragazzi, in bocca al lupo, noi ci crediamo e avete una grande squadra e quindi sicuramente farete delle cose davvero straordinarie. Grazie di essere stati i nostri ospiti. Grazie a voi. Allora salutiamo tutti gli ospiti virtuali, ci fermiamo un breve stacco pubblicitario e poi torniamo insieme per parlare ancora di una cosa importante, non è mai abbastanza parlare di donne, parlare di vittime di violenza e lo faremo insieme ad una psicoterapeuta che si occupa proprio di questo a livello nazionale e che ha appena scritto un libro davvero di straordinario successo. A tra poco. Grazie a tutti.